Sono stato molto sorpreso, lo dico col cuore, e forse sono stato anche in ingenuo, non lo conoscevo per niente, e ho incontrato una persona veramente che mi è parsa, migliore addirittura di quello che avrei immaginato, migliore dal punto di vista umano soprattutto, perché questo è quello che conta, e poi dal punto di vista tecnico lo vedremo. Poi effettivamente dopo le dimissioni che io non avrei mai voluto di Luca Righetti, e anche con il rammarico che esprimo in questo momento, il dispiacere non solo personale, ma proprio per la nostra storia, perché non avrei mai veramente immaginato che sarebbe un po' finita così, per il momento. Rimini è una città dove io sto bene, dove ho amici, dove la città è bella, si vive bene, e io ho scoperto, dopo tanti anni, che è importante per rendere bene nel nostro pensiero anche vivere in una bella città dove uno sta volentieri. Sempre un amico mi ha detto, ma non hai paura che possa scalfire quello che fa? Dico se ho paura stavo a casa. Non ho paura. Non ho paura e sono convinto di poter far bene, perché a Rimini ci sono le basi per far bene.